salve a tutti fratelli e sorelle benvenuti nel nuovo appuntamento di video pensiero dio vi benedica sia rodato gesù cristo sia fatta la santa e divina volontà e ave maria come vedete dalla locandina della miniatura vedete proprio che padre gabrile rossi che è un sacerdote scomunicato dice che il papa è benedetto sedicesimo non solo ma lo dice proprio nel una lettera che ha scritto a aldo mariavalli al suo blog che adesso andiamo a leggere e anche questo è stato come sapete sospeso a divinis e anche lui un altro sospeso di oltre che l'altra volta avevo letto quello di di don andrea se vi ricordate don andrea maggio quella che aveva bruciato la foto di di papa benedetto e questo invece è stato scomunicato anche questo qui di tutti e due sono stati diciamo due preti scomunicati ma vediamo che cosa dice proprio in questa lettera ripeto dal dal sito di aldo mariavalli dice papa benedetto è ancora in mezzo a noi e dice introduzione lo leggiamo tutto così vedete bene quello che dice carissimo aldo maria vista le ripetute minacce del mio superiore generale del tipo o ritratti le due dichiarazioni o ti prolungo la sospensione o abbedisci alle restrizioni o ti caccio dalla congregazione avevo fatto il mezzo a proposito di evitare altre esternazioni potenzialmente pericolose ma dopo aver letto il tuo posto del 15 luglio scorso relativo alla vicenda diciamo infuocato di don andrea maggio quello della foto bruciata mi sono sentito moralmente obbligato a tornare sulle note problematiche ecclesiali e con il tuo permesso vorrei farlo rivolgendosi direttamente al citato sacerdote ligure entrambi sospesi a divinis reverendo don andrea non ho l'onore di conoscerla di persona ma ho avuto modo di visionare su youtube alcuni brevi filmati che la riguardano mi sembra che lei sia un prete piuttosto battagliero che non ci concede troppe confidenze per questo le do del lei e non si lascia convincere facilmente le scrivo non per farle cambiare idea su qualcosa ma perché la sua vicenda si presta benissimo per tornare a riflettere insieme a lettore di questo blog di aldo mariavalli ovviamente su una questione e quindi anche su voi cari fratelli e sorelli così ascoltate quello che dice su una questione che ancora è di scottante attualità per tutta la santa chiesa appunto le dimissioni di papa benedetto xvi nel febbraio 2013 sappia che come lei anch'io sono tuttosa sospeso a divinis a causa dell'attuale situazione della chiesa lei perché ha criticato palese platealmente la rinuncia di papa benedetto bruciandone in pubblico la foto io perché nonostante tutto continuo a considerarlo ancora papa anche se ovviamente in forma limitata e condizionata le motivazioni sembrerebbero diverse opposte ma in realtà sono simili e complementari come due facce della stessa medaglia la lenta presa di coscienza le do atto e merito per il fatto che nella vicenda della della chiesa lei ha ha nutrito sospetti fin da subito ha protestato viceversamente già nel 2013 io invece ho impiegato molto più tempo all'inizio infatti ho considerato le dimissioni di papa benedetto xvi come opportune sia per lui sia per noi a causa dei continui e volenti attacchi che si muovevano in quel periodo in quei mesi ma ho guardato con viva speranza nel al nuovo timoniere sudamericano e quando la pubblicazione di amor letizia 2016 ha obbligato gli onesti ad aprire gli occhi su quanto stava accadendo io ho cercato disperatamente di recuperare la figura di papa benedetto xvi ripiegando convinto sulla teoria dei due papi entrambi legittimi ma alla fine ho dovuto riconoscere che anche in questa soluzione canonica possedeva un carattere soltanto fittizio e provvisorio in quanto del tutto insostenibile dal punto di vista teologico e giuridico un corpo infatti non può avere due teste e se si presentano con due teste soltanto una sarà quella determinante ora finalmente mi sembra di essere arrivato al nocciolo del problema e cioè è accaduto anche grazie a lunghe passeggiate rosari in mano anche la sospensione che mi ha regalato in questi mesi e il nocciolo è precisamente il seguente la validità o meno da un punto dal punto di vista canonico della rinuncia di papa benedetto xvi a mio avviso a mio modesto avviso questa è la madre di tutte le questioni provo a spiegarmi telegraficamente le due ipotesi fondamentali se la rinuncia nel febbraio 2013 fosse valida in quanto sufficientemente libera e volontaria ne deriverebbe quanto segue sarebbe valido anche conclave del marzo 2013 e le nezioni di papa a bergoglio da notare che a norma della costituzione apostolica universi dominic regis eventuali altre irregolarità presenti in quel conclave nella sua preparazione tipo le manovre della cosiddetta mafia di sangallo al massimo andrebbero a intaccare la liceità del tutto ma non la validità non si giustificerebbe più di tanto la rinuncia soltanto parziale di papa benedetto con quella strana distinzione tra esercizi attivo e contemplativo del papato e il titolo altrettanto strano di papa emerito l'unico responsabile della chiesa cattolica sia nel bene che nel male sarebbe quindi papa bergoglio fino al punto che nessuno potrebbe opporglisi in maniera giuridicamente risolutiva neppure in caso di eresia certa e notoria su questo scopo appieno la tesi di su questo punto sposo appieno la tesi di monsignor schneider se invece questo era se fosse valida se invece la rinuncia del febbraio 2013 non fosse valida in quanto frutto di gravi pressioni esterne a cui il sommo pontefice in buona fede ha ritenuto di non dover più resistere né deriverebbero le seguenti conseguenze non avrebbero alcun valore canonico né le lezioni del cardinal bergoglio né l'intero suo pontificato dall'inizio alla fine acquisterebbe un grandissimo valore morale giuridico le parole con le quali papa benedetto xvi ha dichiarato di dimettersi dal papato non per completo ma soltanto per sua dimensione operativa il papa non appartiene più a se stesso appartiene a tutti e a tutti appartengono a lui il sempre anche un per sempre non c'è più ritornare nel privato la mia decisione di rinunciare all'esercizio attivo del ministero pietrino non revoca questo non ritorno alla vita privata non abbandono la croce ma resto in modo nuovo presso il signore crocifisso non porto più la potestà d'ufficio per il governo della chiesa ma nel servizio della preghiera resto per così dire nel ricinto di san pietro catechesi del 27 febbraio 2013 e con queste parole acquistirebbero un valore grandissimo morale e giuridico anche i suoi gesti il fatto cioè di aver conservato l'abito il nome il titolo e lo stemma da papa e di essere rimasto a vivere in vaticano a discapito della sua stessa libertà di movimento anche se forse all'inizio egli non riusciva a immaginare tutto quello che poi sarebbe accaduto e dice benedetto rimane papa reverendo don andrea questo è il punto non è vero come lei ha detto che nel 2013 benedetto sedicesimo ha abbandonato la nave come schettino non è vero che egli ha frantumato la roccia di pietro riducendola in polvere non è vero che egli non ha messo la propria debolezza al servizio della potenza di dio non è vero perché se ciò fosse stato vero benedetto sedicesimo avrebbe lasciato il papato in toto si sarebbe vestito di nuovo da semplice cardinale e se ne sarebbe tornato nella sua bella baviera avrebbe girato il mondo facendo conferenze rilasciando interviste e invece egli non ha inteso non ha inteso farlo e non l'ha fatto al contrario bisogna riconoscere e proclamare che benedetto sedicesimo rimane papa come prima e più di prima perché egli ha rinunciato certo all'esercizio attivo del papato ma non al papato in quanto tale potremmo dire tranquillamente che gli ha rinunciato a fare il papa ma non ad essere papa oppure ricorrendo all'immagine usata dal suo segretario personale monsignor gorg gershwin che gli ha fatto che gli ha fatto non un passo indietro ma un passo di lato perché tutto ciò ora è evidente che ci troviamo davanti una situazione canonica più unica che rara la quale non ha avuto nessun precedente nella storia della chiesa per la qualcosa in molti ci domandiamo perché sta accadendo tutto ciò e la risposta potrebbe essere la seguente l'attuale situazione ecclesiale con un papa attivo e uno contemplativo non è un semplice assurdo umano ma un'autentica permissione divina questa situazione infatti sta facendo venire alla luce tutto il marcio che c'è all'interno della chiesa non solo a livello pratico ed esistenziale ma anche a livello teorico e dottrinale la chiesa è piena di piaghe profonde e ormai infette e fin quando il pusso non esce fuori per completo le sue piaghe non si potranno mai asciugare e rimarginare cioè cari fratelli e sorelle qui c'è l'opera della purificazione fratelli e sorelle forse è questo che la gente non ha capito concorde con lui perché questa è purificazione fratelli e sorelle questa è la purificazione i messaggi lo dicono purificazione del mondo e della chiesa e andiamo avanti ecco questo è il processo attualmente in corso e il grande problema del momento presente che se non riusciamo se anche riusciamo a fare una diagnosi corretta della situazione della chiesa non disponiamo però di una soluzione che sia veramente risolutiva finché non si tocca il fondo non ci si ferma più per la qualcosa le uniche piste percorribile sembra essere queste due valorizzare il più possibile la permanenza in mezzo a noi di papa benedetto xvi e moderare il più possibile gli sbantamenti di sordità dottrinali di papa bergoglio il resto lo farà il signore quindi pregare che il signore faccia ancora stare qua papa benedetto xvi e perché vi ricordate che è di son glauver il signore gli disse che morto papa benedetto viene il caos e ammonire papa bergoglio quando c'è bisogno da morirlo papa francesco con le preghiere ma anche con dirgli le cose come stanno un gesto profetico involontario reverendo don andrea a me se non concesso che questi ragionamenti abbiano un senso bisogna riconoscere che il 2013 era difficile prevedere uno sviluppo ecclesiale come quello attuale a meno che uno non avesse avuto dei lumi speciali tipo san padre pio ma su questo tasso non insisto più di tanto perché mi sembra che lei abbia una certa allergia verso le figure mistiche in ogni caso non solo condivido il suggerimento di aldo variavalli cioè il titolare del blog di comprendere e scusare il gesto piromene che da lei compiuto nel marzo del 2013 in quanto dettato di un accesso di amore al papa e alla chiesa ma tenere di più esso può essere visto come una sorta di gesto profetico involontario che va completamente a favore dell'angusta persona di papa benedetto xvi mi spiego quel gesto può esprimere come un richiamo sulla necessaria sulla necessità di invocare con forza il fuoco dello spirito santo affinché il santo padre possa realizzare in modi e nei tempi stabiliti non da noi ma dalla divina provvidenza ciò che certamente gli desideri dal più profondo della sua anima resistere davanti ai lupi e dare la vita per il greggio a immagine del buon pastore un viaggio ad occhi chiusi revenendo don andrea appellandomi alla sua pazienza vorrei ora invitarla a fare ogni tanto un'operazione di questa genere la stessa cosa chiedo anche lettori chiudo per un attimo gli occhi e immagini di stare di fare un viaggio in avanti nel tempo arrivando verso il 2030 anno più anno meno la spiego la situazione che potrebbe incontrare la città di roma è molto è molto diverso rispetto a prima quasi non si riconosce il papa regnante proviene dall'africa si chiama clemente quindicesimo che ha ribadito con forza la dottrina della presenza reale del signore nella corristia e ha imposto la cosiddetta riforma della riforma riguardo alla messa di san paolo di paolo sesto egli ha anche svelato per file per segno il terzo segreto di fatima spiegando come e quando esso sia realizzato nei tempi negli ultimi decenni soprattutto nei confronti del suo predecessore benedetto sedicesimo e da fatima ha già consacrato espressamente solenamente la russia al cuore immacolato di maria e gli inoltre e questo è il punto più importante ha istituito un'apposita commissione cardinalizia per indagare sulla validità o meno delle drammatiche di missione di papa benedetto sedicesimo nel 2013 e tale commissione sulla base di una documentazione abbondante e inconfutabile ha già sentenziato in modo unanime sette voti su sette che tale atto di rinuncia da considerarsi calonicamente invalido a causa di una serie mostruosa di pressioni ricatti di ogni generi ai danni del santo padre da parte di una cordata di prelati scritti nella masoneria e da parte della stessa amministrazione obama giunta fino a tal punto di bloccare i contanti tra la banca vaticana york e le altre banche del sistema swift grazie alla sutezza indagine clemente quindicesimo ha già dichiarato con un atto solenne e riformabile che l'intero pontificato del cardinal york e mario o bergoglio va considerato sostanzialmente nullo e inefficace salve le seguenti precisazioni i suoi atti sacramentali rivalgono validi in forza dell'ex operato operato quindi penso per la santa messa credo che sia questo quello che vale e suoi atti di governo invece vengono sanati in forza della supplen ecclesia ma i suoi atti magistrali magisteriali sia verbali che scritti vengono stracciati dalla prima all'ultima parola solo la santa messa si salva ecco e infine clemente quindicesimo in modo analogo al suo omonimo omonimo clemente quattordicesimo vissuto nel 1700 ha già sospresso su tutta la faccia della terra la compagnia di gesù ad eccezione di una piccola comunità di una dozzina di elementi che si sono stabiliti all'oioli spagna questi religiosi sono gli unici che durante il pontificato dell'illustre confratello sono stati capaci di resistergli in faccia appellandosi al catechismo della chiesa cattolica di giovanni paolo secondo di san giovanni paolo secondo per costoro il papa ha riconfermato il divieto assoluto di accedere all'iposcopato cardinalato e papato e ciò con un atto solenne interocabile valido per i secoli dei secoli cioè che gesuiti non possono andare a diventare pari ecco reverendo don andrea lei vedrà che se ogni tanto farà l'operazione che le ho descritto quando può riaprire agli occhi l'attuale situazione ecclesiare la parità meno drammatica e insopportabile anche la famosa rinuncia di papa benedetto xvi ne apparirà non del tutto sprovvista di logica e utilità conclusione la morale della favola è molto chiara benedetto xvi anche se bocottato ed emarginato rimane ancora papa egli continua a servire la chiesa non solo con la sua presenza la sua preghiera la sua sofferenza ma anche con alcuni suoi interventi scritti e orali offerte sempre con grande discrezione e nei limiti dello stretto necessario vedi in particolare gli appunti dell'aprile scorso definiti da molti come il primo documento cattolico da sei anni a questa parte e quando non lui non è lui direttamente a prendere posizione lo fanno alcuni cardinali ancora sintonizzati con il vero magistrato della chiesa come ad esempio il cardinale gerard muller ed egli non sarà certo egli non sarà certo il prelato più loquace e reattivo ma è sicuramente il più qualificato in maniera dottrinale e quindi il più adorevole lo ringraziamo vivamente soprattutto per i due suoi interventi più importanti il ministero della fede del febbraio scorso le osservazioni critiche del documento preparatorio per il sito dell'amazzonia di questo mese di luglio e gli auguriamo di continuare ancora su questa linea chiara e coraggiosa per chi non ha le classiche fette di prosciutto sugli occhi questi diversi interventi pontifici e cardinalizi dovrebbero essere più che sufficienti per capore che cosa sta accadendo di questi tempi all'interno della chiesa cattolica carissimo don andrea surmus corda papa benedetto ancora in mezzo a noi invochiamo fiducioso il fuoco dello spirito santo su di lui e su tutta la chiesa e come celebranti nominiamo volentieri nel canone della santa messa un cordiale saluto a lei a tutti i lettori padre gabriele rossi vedete una bellissima lettera lunga sicuramente ma fa capire tanti scenari che effettivamente questo è quello che potrebbe essere accaduto a punto interrogativo questo video domanda a voi nel vostro discernimento e chi vorrà rispondere poi nei commenti dio vi benedica sia lodato gesù cristo sia fatta la sua santa volontà ave maria e santa giornata a tutti voi grazie